Una folla emozionata ha animato Piazza Roma, riunendosi davanti ai cancelli del Palazzo Ducale. Per 301 ragazzi e ragazze, oggi è il primo giorno di tirocinio in Accademia. Dopo aver superato la prima fase rappresentata dal concorso, inizia per loro il passo più pratico di un percorso che porterà alla formazione di nuovi militari tra corpi dell'esercito e l'arma dei carabinieri. Dai libri per superare gli esami del concorso alla vera e propria vita militare per un mese intensissimo. Non tutti riusciranno a superare questa fase. Durante questo periodo avverrà una selezione che permetterà solo a 130 tirocinanti di proseguire con gli studi all'interno dell'Accademia. Ma oggi i ragazzi e le ragazze trascinano su Piazza Roma i loro troll e i pieni di speranza e di buona volontà incitateli dai genitori che, emozionati quanto loro, da tutta Italia sono arrivati a Modena per incoraggiare i figli. Grazie.